Sia lodato Gesù Cristo Ciao fratelli e sorelle della famiglia del Vangelo Eccoci qui al Vangelo di oggi con fra Stefano Il Vangelo del Giorno Mercoledì 28 agosto, Sant'Agostino Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! Preghiamo Suscita sempre nella tua chiesa o Signore lo spirito che animò il tuo vescovo Agostino, perché anche noi, assetati della vera sapienza, non ci stanchiamo di cercare te, fonte viva dell'eterno amore. Per Cristo nostro Signore. Amen! Il Signore sia con voi Dal Vangelo secondo Matteo Gloria a te o Signore In quel tempo Gesù parlò dicendo Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati, all'esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni marciume, così anche voi all'esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti, e adornate i sepolcri dei giusti, e dite, se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti. Così testimoniate contro voi stessi di essere figli di chi uccise i profeti. Ebbene voi colmate la misura dei vostri padri. Parola del Signore Lode a te o Cristo A volte mi chiedo se non stiamo un po' tutti come quei sepolcri imbiancati di cui parla Gesù, belli fuori ma dentro, beh, lasciamo perdere, è facile cadere nella trappola di curare solo l'apparenza, dimenticandoci di ciò che conta davvero. Mi viene in mente una storia che raccontavano i padri del deserto. C'era un monaco famoso per la sua santità, tutti lo ammiravano per la sua devozione e le sue preghiere. Un giorno un altro monaco andò a trovarlo e gli chiese Padre, come fai ad essere così santo? Il monaco famoso sorrise e rispose Ah, è semplice, ogni mattina quando mi sveglio mi guardo allo specchio e dico a me stesso Oggi uno di noi due deve cambiare. E sai una cosa? Non è mai lo specchio a cambiare. Questa storiella ci ricorda che il vero cambiamento, la vera santità, parte da dentro. Non si tratta di apparire perfetti agli occhi degli altri, ma di lavorare costantemente su noi stessi. Gesù ci sfida a essere autentici, a non nascondere la nostra vera natura dietro una facciata di perfezione. Pensa che liberazione sarebbe vivere senza maschere, senza veramente… riuscendo ad essere se stessi. Oggi prova a fare come il monaco della storia, guardati allo specchio e chiediti Cosa posso cambiare dentro di me oggi? Potrebbe essere un pensiero negativo, un pregiudizio o magari un'abitudine che sai che non ti fa bene. Ricorda, non si tratta di essere perfetti ma di essere in cammino, di essere vivi dentro, non solo belli fuori, perché è lì nel profondo del nostro cuore che possiamo trovare la vera bellezza della vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E la benedizione per te e per le persone che porti nel cuore, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo. Amen! E restiamo sempre uniti con l'ascolto del Vangelo e anche nella preghiera sostenendoci a vicenda. Il Signore ti custodisca nella pace, ciao ciao, e abbi cura di te! Grazie! 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 Grazie!